Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ancora una volta ho avuto la gioia di battessare alcuni bambini nella odierna festa del Battesimo del Signore. Oggi erano 32. Preghiamo per loro e per le loro famiglie. La liturgia di quest'anno ci propone l'evento del Battesimo di Gesù secondo il racconto del Vangelo di Matteo. L'Evangelista descrive il dialogo fra Gesù, che chiede il Battesimo, e Giovanni Battista, che vuole rifutarsi e osserva «Sono io che ho bisogno di essere battessato da te, e tu vieni da me?» Questa decisione di Gesù sorprende il Battista. Infatti il Messia non ha bisogno di essere purificato. È lui invece che purifica. «Ma Dio è il Santo. Le sue vie non sono le nostre. E Gesù è la via di Dio, una via imprevivibile». Ricordiamo che Dio è il Dio delle sorprese. Giovanni aveva dichiarato che fra lui e Gesù esisteva una distanza abissale, incolmabile. «Non sono degno di portargli i sandali», aveva detto. «Ma il Figlio di Dio è venuto proprio per colmare questa distanza fra l'uomo e Dio». Se Gesù è tutto dalla parte di Dio, è anche tutto dalla parte dell'uomo, e riunisce ciò che era diviso. Per questo egli replica a Giovanni, «Lascia fare pur ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Il Messia chiede di essere battessato perché si compia ogni giustizia, si realizza il disegno del Padre che passa attraverso la via dell'obbedienza figliale, della solidarietà con l'uomo fragile e pecatore, e la via dell'umiltà e della piena vicinanza di Dio ai Suoi figli. Anche il profeta Isaia annuncia la giustizia del servo di Dio, che realizza la sua missione nel modo con uno stile contrario allo stile mondano. «Non griderà né alzarà il tono», dice il profeta. «Non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta». E l'atteggiamento della mitezza è questo che ci insegna Gesù con la sua umiltà, la mitezza. L'atteggiamento della semplicità, del rispetto, della moderazione, del nascondimento, richiesto anche oggi ai discepoli del Signore. E' triste dirlo, ma quanti discepoli del Signore si pavoneggiano di essere discepoli del Signore. Non è un buon discipolo quello che si pavoneggia. Il buon discipolo è l'umile, il mite, quello che fa il bene senza farsi vedere. Nell'azione missionaria, la comunità cristiana è chiamata ad andare incontro agli sempre, proponendo e non imponendo, dando testimonianza, condividendo la vita concreta della gente. Appena Gesù fu battessato nel fiume Giordano, si aprirono i cieli e scesse su di Lui lo Spirito Santo come una colomba, mentre dall'alto risuonò una voce che diceva «Questi è il figlio mio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento». Nella festa del battessimo di Gesù riscopriamo il nostro battessimo. Come Gesù è il figlio amato del Padre, anche noi, rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, sappiamo di essere figli amati. Il Padre ci ama a tutti, oggetto del compiacimento di Dio, fratelli di tanti e antifratelli, investiti di una grande missione per testimoniare e annunciare a tutti gli uomini l'amore sconfinato del Padre. E questa festa del battessimo di Gesù ci fa ricordare il proprio battessimo, il nostro battessimo. Anche noi siamo stati re nati, nel battessimo è venuto lo Spirito Santo a rimanere in noi. Per questo è importante ricordare, sapere qual è la data del mio battessimo. Noi sappiamo qual è la data della nostra nascita, ma non sempre sappiamo qual è la data del nostro battessimo. Sicuramente qualcuno di voi non lo sa. Un compito per fare a casa. Quando tornerete, domandate, quando sono stato battessato? Quando sono stato battessato? E festeggiare nel cuore la data del battessimo ogni anno? Fatelo! Anche è un dovere di giustizia verso il Signore che è stato tanto buono con noi. Maria Santissima ci aiuti a comprendere sempre più il dono del battessimo e a viverlo con coerenza nelle situazioni di ogni giorno. Vi volgo a tutti voi, cari romani e pellegrini, mio saluto cordiale alle famiglie, ai gruppi parrocchiali, alle associazioni e ai singoli fedeli. Saluto i giovani del Movimento dei Focolari provenienti da Colombia, da Colombia, Brasile, Paraguay e Corea, convenuti a Roma per un corso di formazione a cent'anni della nascita della serva di Dio Chiara Lubic. Saluto i fedeli di Otranto e il coro Alma Gaudia di Manduria. Auguro a tutti voi una buona domenica e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!